Marco Fiorotti, al testo nome, al carino, Giuseppe Morali, la patria, Giorgio Rossicoli, andiamo a fare, sono espressi veramente che in realtà non lo farebbero altri generi, forse nel caso che ci sfoghiamo un momento di andare via a risautare. Voi volete? Volete attivarli a dire? Allora, proviamo? Che fanno? Va bene, facciamo un mind dance Vai, vai Allora, proviamo? 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 Allora, prov�iamo? Allora, proviamo? Allora, proviamo? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.